2, 1 Ciao a tutti, siamo Ijan dall'Egitto, vogliamo salutarvi, siamo da tutti i posti nell'Egitto, siamo dal nord, dal sud, c'è dal Cairo, da Sohag, da Asiud, dall'Alessandria, da Aswan, vogliamo salutarvi. Anche vogliamo assicurarvi la nostra unità in questo congresso e vogliamo costruire con voi Gesù in mezzo. Vi auguriamo e buon Natale. Uno!